Nel 2015 ricorre il settantesimo anniversario della liberazione, era il 25 aprile 1945 e noi stiamo preparando uno spettacolo teatrale proprio su questi temi, quindi la fine della guerra e della dittatura, l'inizio di una grande scommessa, la pace, la libertà, la costituzione, il progetto di un mondo nuovo. Valori che sono stati conquistati con dolore, sofferenza e sacrificio e che noi abbiamo il dovere di difendere e perfezionare. Questo progetto teatrale ci consente di immergerci nei complessi eventi della nostra storia, di capirli meglio e di condividere da un palco le nostre riflessioni. E anche quest'anno siamo in tantissimi, oltre 50 studenti di quattro scuole tra Milano e Sesto San Giovanni, Carducci, Marignoni Polo, De Nicola e Spinelli, uniti in un'unica grande compagnia e diretti da Michela e Andrea dell'Associazione Extramondo. Grazie 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 A presto Grazie